Con Daniele Cantelli, l'autore del gol del 3-3, Daniele, diciamo che di questo gol c'era davvero bisogno? Sì, sì, c'era bisogno anche per lo sfortunato episodio contro l'Ischia, però sono contento che questo gol l'ha portato a qualcosa di buono e passaggio del turno. Una partita che sembrava essersi messa benissimo già dopo i primi 45 minuti, poi, diciamo, tu che l'hai vissuto il primo tempo dalla panchina, sei entrato poi nella ripresa, secondo te cosa è successo? È un calo di attenzione, sembrava che la partita sul 2-0 era nostra, invece no. Come capita sempre in queste categorie bisogna sempre stare attenti su tutti i palloni, su tutte le azioni degli avversari perché può capitare di tutto. Quanto ti mancava il gol personalmente? Vabbè, tanto, tanto. Infatti con i miei amici di squadra scherzavamo quando fai questo gol, quando ci regali questa gioia. Soprattutto il capitano, Luigi Norione, che mi spronava. Daniele, vai, vai. E alla fine è arrivato, speriamo che ne verranno tanti altri. Speriamo che ne verranno tanti altri in campionato come in Coppa, il Lacamino che continua la sua avventura in Coppa. Quando è il mese d'agosto la Coppa Italia è sempre l'occasione per testare un po' la gamba, per vedere qual è la condizione. Adesso però sembra quasi che possa diventare un obiettivo di questo Lacamino. Sì, ma noi qualsiasi competizione la affrontiamo con la testa giusta. Dobbiamo sempre dimostrare il 100% chi va e chi non gioca sempre, chi gioca quasi tutte le partite. Dobbiamo avere sempre la testa, quella di andare in campo e dare il massimo, qualsiasi competizione. Adesso stiamo affrontando questo cammino in Coppa Italia. Abbiamo passato il turno, adesso si fa ancora più difficile, però noi siamo sicuri che con le direttive del mister possiamo fare un bel percorso. In bocca al lupo! Crepi! Grazie!